Di cosa si tratta? Il nuovo bando macchinari innovativi è l'opportunità messa in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del programma operativo Imprese e Competitività 2014-2020. La misura d'aiuto consente alle piccole e medie imprese appartenenti a 5 regioni del Mezzogiorno, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di efficientare il proprio ciclo produttivo mediante l'acquisizione di beni tecnologicamente avanzati. Nell'ambito dei programmi di investimento le piccole e medie imprese devono conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano impresa 4.0 e la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare mediante l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie che rendono il ciclo produttivo più sostenibile. Lo strumento agevolativo mira ad avere un impatto immediato sul sistema produttivo meridionale. Per fare questo sono state apportate diverse novità rispetto alle precedenti edizioni del bando. Sono state ampliate le tipologie di investimento ammissibili. È stata prevista l'ammissibilità per il settore dei servizi alle imprese. Sono stati ridotti gli oneri documentali a carico delle imprese con l'eliminazione della perizia giurata, obbligo che era presente in fase di presentazione della domanda. È prevista anche l'ammissibilità dei progetti presentati attraverso un contratto di rete. E infine è stata abbassata la soglia minima per la presentazione dei programmi di investimento. E infine è stata abbassata la soglia minima per la presentazione dei programmi di investimento.